Oltre quattro mesi fa abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare proprio a proposito del centro islamico che di fatto è una moschea che era frequentata da Fatima, la figlia di quella persona che è stata arrestata oggi ad Inzago e chiedevamo allora che il ministero competente ne disponesse la chiusura in quanto quel luogo era diventato luogo di transito di personaggi legati al terrorismo internazionale. Naturalmente non abbiamo avuto nessuna risposta, oggi le forze dell'ordine arrestano in un'operazione personaggi che transitavano proprio in quel luogo ed in particolare i parenti e i genitori di Fatima.